Amici, sto per dire una cosa molto importante, di vitale importanza, mettetevi comodi, prendete qualcosa da mangiare, perché oggi giocheremo a Roblox. Ci sarà da divertirsi. Allora, non so bene come funziona, però ho cercato Fortnite e mi è uscita questa cosa, perciò giochiamo a Fortnite, credo. Ok, questo dovrebbe essere il pullman della battaglia. Quella è Pinnacoli! Ok, come faccio a entra... Ah, devo... Rocket Launcher. Cancella. Partiamo male. Ok, cambiamo gioco. Tra l'altro a Roblox ci avevamo anche già giocato insieme in live, in caso consigliatemi qualche gioco, sto scrollando la pagina dei giochi, perché non li conosco, tranne appunto quelli che mi avete detto in live. Ma al momento mi sono dimenticato il nome, perciò le cerchiamo a caso. No, questo era strabello, Big Paintball, sì sì, questo c'ho già giocato, apri Roblox e vai, fai tutto. Praticamente questo qui è Paintball. Ok, quindi, con una mira incredibile che spero di avere in questo momento, tra l'altro vedi che avevo anche già farmato, yes. Vai, 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 ci gioca Paintball. Uh, bella sta mappa, questa è quella di COD. Come si chiama? Nuketown. Vai, 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 spam, 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 sì, spam, spam. Sono morto, però uno l'ho ucciso. Ma do che fi... Uh, quanto è volato via, e niente, e niente, e niente, continuo. Uh, la torretta, ok, allora ho capito che devo giocare safe. Proveremo due o tre mappe in questo video, sì, faremo schifo in tutte, non lo so, però voglio disegnare. Pim, sì, quello è il disegno di un... Comunque, no, sei secondi e finisce la partita, che scam, che scam che siamo entrati a partita già iniziata, la gente esplode. Ma cosa sta succedendo? Oh, hanno lanciato una nuke. Ma do, ha lanciato la nuke alla fine della partita. Ok, sì, mi chiamo un abissimo 99. Tra l'altro, se volete, inviatemi pure la richiesta. Però, voglio fare un'altra partita. Uh, Nuketown, vai. No, perché tutti votano Suijin? Che cos'è Suijin? Suijin? Eh, ha vinto Suijin. Piateli, piateli. Ma do, raga, io c'avevo una tecnica, mi ricordo l'altra volta che ci ho giocato. Vado allo spawn, faccio il ciccione, e mi metto dietro l'angolino dello spawn. Raga, li ammazzate tutti, fidatevi. Ammazzate. Ok, PA. No, mi ha ucciso Popstar e R7 con la skin di Piggy. Che traiardone. Vai, spara. Cecchinata, cecchinata di Van Masser. Guardano lì Piggy. Ah, scemo. Godo, Godo. Vendetta vera, non finirò in galera. Biacci. Ma do, guarda che cecchino, raga, sono un cecchino. Sono un cecchino. Sono morto pure, ma vabbè. Un cecchino morto. Oh, sono primo. No, sono un fenomeno, raga, sono primo. Tra l'altro, per sbloccare nuove armi, da quel che ho capito, devi sia uccidere la gente, vedi che ti dai cash. Quindi, sono morto. Quindi, uccidendo la gente e finendo le partite, soprattutto, si ottengono i soldi. Più soldi ottieni, più armi sblocchi. Ora, voglio fare un Mega 360 così. Uh, c'ho il radar con la Z, vai, radar. No, dai, sono morto con il radar. No, che fallimento. No, che doppio fallimento. Mi sono baggato. Ok. Va bene, Piggy l'abbiamo ucciso. Siamo morti. Uh, Dragon Ball Z Final Stand. Non ho idea di cosa sia, però, uh, magari potrebbe essere buono. Vediamo Now Loading. Ok, con quale immagine me lo stai dicendo? Ok. Faceva schifo. No, raga, voi non siete pronti. Questo è il nuovo Fortnite. Eh, sì, fidatevi, è molto più divertente. No, ho preso una caduta, sono un fallito. Vabbè, praticamente, sì, questo è Fortnite. Con i tasti stupidissimi, perché c'è la Q per costruire. Cioè, ok, va bene, non... E la V, la Q e la V, ma che tasti sono Q e V? Non si possono neanche cambiare. Vabbè, devi andare a conquistare... Mi hanno esploso. Ok, dicevo, devi andare... Sì, niente, questo è un fenomeno. Ma do. Se sei un fenomeno qui su Roblox, mi immagino su Fortnite. Uh, cassa di... Vai, prendi. Ok, c'è la bomba ballerina. Come si prende? Con la E. E fortina box con la... E. Vai, lancia il fortino. Bello. Bello sto fortatile. Ma do. Ok, quindi, c'ho... Bravissimo, costruisci tutto. Allora, vediamo se c'è qualche pollo da spennare. Nessuno. Guardalo lì. Mega cecchinata? Un fenomeno? Un mega fenomeno? Assolutamente no. E invece 90. E invece... Dai, muori. Ma ti ho fatto 90. Perché non muori? Oh, guardalo lì. Ma do. Faccio il fenomeno. Allora. C. Piattaforma. No, B. Cucu. B. Cucu. Madò, raga. Che fastidio. Con questi tasti a caso. Pushiamolo. Madò, lo pushiamo. Guarda che 360. Ma do. Un fenomeno sono morto. Però, ci abbiamo provato. Guardalo lì. Guardalo lì. 33. Easy kill. Killiamo pure te, pollo. Cosa credi di fare? Cosa credi di fare? Madò, ho rischiato. Ok, due kill. Siamo in streak, raga. Siamo in streak. Siamo in streak. Pompa alla mano. Sì, che l'abbiamo visto. Sì, che l'abbiamo visto. Guarda com'è, Edito. Guarda com'è, Edito. Che cicciona. No. Sì, dai. Editamela che sei morto. Sì, facile. Madò, raga. È un fenomeno. È un fenomeno. E niente. Però forse ha cambiato i tasti, magari. Ok. Mi ha esplod... Madò, raga. Ma questo è un fenomeno. C'è un fenomeno. Un tryardone più che un fenomeno. Dovrò vedere di cambiare i tasti. Vai, ultimo tentati. Live game. Tra l'altro c'è anche Among Us. Fatto in modo strano. Ora vi faccio vedere praticamente sostanzialmente uguale a Among Us. Si chiama Amongst Us, giusto per copyright. Se no, li fucilavano. E yes, siamo un ghost. Dai, ma siamo nati morti. Ma che cacchio. Vabbè, comunque come vedete ci sono le varie task da fare. La mappa è quella di Skeld. Ok, sono palesemente copiate uguali, proprio paro paro, dalla mappa Skeld. De Skeld. Di Among Us. Qua c'è il coso della memoria che sinceramente non ha voglia. Ma qua che carine le immaginine dove devi scegliere e lasciate qua in alto a sinistra. Carino, va bene. Dave, siamo nati fantasmi. Non ha voglia di aspettare. Dato che il gioco di Dragon Ball di prima ha fatto abbastanza vomitare proviamo Cyan Fighting Simulator. C'è un Broly bello sgravato lì in copertina. Perciò lo proviamo. Uh, che figo. Possiamo scegliere l'umano, il Cyan, l'alieno, il Cyborg. Cyan palese. Are you sure you want to be a... Yes. Ma non siamo un Cyan, siamo il classico fallito nabissimo 99. Io voglio essere come Vegeta. Ma che bello sto Vegeta. Ah, ci sono le tasse. Vai, Master Rush. Can you help me defeat Frisha? Yes. Il gioco sta per chiudere tra dieci secondi. Ma che cacchio. Ma sono sfigati. Basta, questo vuol dire Master Chiudi Roblox per sempre. Dai, ma c'ha disconnesso. Lì va tutto. Amici, abbiamo provato qualche mappa. Sni. Volevo cercarne altre. Ce ne sono tante ma non le conosco. Quindi, suggeritemelo nei commenti. Big Paintball è il più bello. Chiudiamo tutto. Spero che questo mini video, credo, non so quanto sia durato, vi sia piaciuto. Ci sono state molte scammate. Sì, mi dovrete dire voi le mappe altrettanto. E in caso, le giochiamo in live. Vi ringrazio per la visione. Come sempre, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 7 e un quarto con un nuovo video. Ciao. Dai, ci hanno chiuso il server in faccia.